Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, quest'oggi vedremo perché è importante non abbassare mai la guardia e continuare a perseverare anche quando il pericolo sembra sventato. Nonostante il primo progetto sia fallito nel dicembre 2021 a causa della resistenza dei paesi africani, l'OMS non si era assegnata e sta lavorando lacrimente alla negoziazione di un trattato sulla pandemia valido a livello internazionale. Inutile dire che le popolazioni sono tenute completamente all'oscuro di ciò che un gruppuscolo di individui deciderà nel segreto delle loro stanze. Per cui, come spesso accade, tocca a noi fare luce su una situazione della massima importanza, visto che ciò che sarà deciso o meno si ripercuoterà direttamente sulla vita di ognuno di noi. La cosa più importante è che il maggior numero di persone sia informato su ciò che sta accadendo, perché solo conoscendo si può superare un eventuale problema. E, come vedremo, anche quest'oggi, fatti apparentemente disgiunti sono in realtà tutti collegati. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su YouTube e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.